Salve a tutti, oggi vi propongo una nuova videoricetta, il gratin di melanzane. Per prepararlo avrete bisogno di 3 melanzane. Lavatele, privatele della calotta e affettateli in fettine molto sottili. Infarinatele. Sbattete due uova. Passate le melanzane nelle uova sbattute. Subito dopo passatele nel pangrattato. Grazie a tutti. Poi friggetele in olio abbondante caldo. Scolatele su della carta assorbente. Spolverizzate di sale a fine cottura. Tagliate ora il salame a fettine sottili. Tagliate la scamorza a cubetti. In una pirofila stendete un velo di salsa di pomodoro. Posizionate le melanzane l'una accanto all'altra. Ricopritele con la salsa di pomodoro. Aromatizzate con del basilico spezzettato e dell'origano. Disponete il salame tagliato strisciugne. Aggiungete la scamorza tagliata a cubetti. e per ultimo sporverizzate con del parmigiano grattugiato. Procedete con altri strati fino ad arrivare alla fine della pirofila. Grazie. Grazie a tutti. 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 Per ultimo tagliate una mozzarella a cubetti e ricoprite tutta la superficie. infornate a 180 gradi per 20 minuti circa. Se avete bisogno di qualunque chiarimento mi raccomando scrivetemi sulla mia pagina Facebook o Instagram. Sono solo una food lover. e non dimenticate di lasciarmi un like, un commento ed iscrivervi al canale. Alla prossima videoricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.